La partita, pareggio che è importante per la vostra classifica, ma credevate anche nella vittoria, diciamo un punto guadagnato o due persi? Diciamo che finalmente dopo tre partite in cui non giocavamo come squadra, oggi si è vista più una squadra e quelle sono le cose che contano, perché è importante giocare da squadra. Il resto siamo stati un po' sfortunati, però proveremo a rifarci la prossima volta. Avete pareggiato dopo essere stati in svantaggio, siete anche andati sull'2-1, poi il 2-2, è il risultato più giusto? Per viste le occasioni è un pareggio che ci sta, c'è un po' di rammarico per la fine, bisogna fare i complimenti alla loro punta che è stata veramente brava. Il numero 9 avversario ha siglato una doppietta, voi avete più cercato il gioco di squadra, dove volete arrivare in questo campionato? Adesso bisogna finire l'andata, dopo vedremo a che punto siamo e si vedrà le sorti del nostro campionato, la cosa che conta è la salvezza in questo momento. Ultima cosa, sull'inizio del secondo tempo siete rientrati in campo un po' contratti subendo un po' gli avversari, un calo fisico o mentale? Secondo me su questo campo sono più episodi che momenti di gioco, ci sono episodi che ti portano ad attaccare, episodi che ti portano a difendere. Abbiamo segnato, ci siamo coperti un po' di più, bisogna essere più bravi a soffrire tutti insieme, però oggi c'è stata una bella reazione rispetto alle ultime partite che non c'era mai. Grazie